Qua è la rascasse che vengono su e questo è il rettilio di partenza. Dove è il rettilio di partenza? E qua ci sono tutti i box. Infatti ci sono le linee. Eh sì. Sì, basta. Qua è il rettilio di partenza che poi mettono tutte le robe. Anche un po' o meno una si deve fermare per andare a passare. Sì, sopra la parte. Tra 200 metri spostatevi sulla destra. Poi tenete la sinistra. Questa qua è la rotonda dove poi muoverò la salita. Siamo arrivati in punto al rettilineo che c'è, che si gira intorno a questa rotonda qua e questa qua la rotonda. Quindi la rincontro, poi il Porsche qua. Tenete la sinistra, poi rimanete nella corsia. Gira intorno a venti. Eh lo so, questa qua, guarda tutto il forte. Questa qua è la salita. Mi sembrava così, così salitosa la salita. Che vanno a cannone, che vanno a 275 all'ora qua. Tra 300 metri spostatevi sulla destra. La macchina, questa è una macchina di rossa. Questa è una macchina di rossa. Questa è una macchina di rossa. Spostatevi sulla destra, poi arrivo. Questa è una macchina di rossa. Questo è il burbone. No, il burbone è l'olvo. Io volevo parte di rinforzare. Qua c'entrò. Non me vi ricordo, no? Perché è il casino? Ma i pagli li levano, li lasciano. Qua è la piazza che arrivano, girano intorno alla piazza del Casino, che è la casina principale, che l'altra c'è il Caffè de Paris. E poi vanno giù in ticino. Qua è una macchinazione di rossa. Qua c'è anche altra roba, il parcheggio privato, per esempio, e qui ci sono andate a cercare. Qua c'è anche la foto, la roba l'acqua, la foto di specchio. Qua c'è anche la foto, la roba l'acqua, la foto di specchio. Qua c'è anche la foto, la roba l'acqua, la roba l'acqua, la roba l'acqua, la roba l'acqua. Da qua è il discesone, è il discesone dove qua scollinano, è presente che qua fanno zico e zago perché c'è sta pallamento. Questo è l'albergo di paura, questo è il curvone, è presente qua il cordolo e poi qua c'è il tornante. L'allungo e lì c'è il tornantino. È presente qua il tornantino. Un'altra benda. Qua adesso andiamo nel... Questa immagine qua la hai visto chissà quante volte? No. il ponte che loro in fondo qua a questo ponte arrivano a 290 all'ora questa roba qua vanno a cannone io volevo fare i tuoi passi qua era carino per cosa fare questa curva qua a 270 all'ora qui altre macchinoni paura anche qua altre compilation di macchine ma il borsche con l'alettone questo è lo yacht in club di monaco questa è la discesa dove arrivano a staccare qua stacchiano a 290 all'ora qua c'è la scicanella quello che non so come fare è perché le si vede un'area lì c'è la scicanella dove vanno e quindi non si riesce a fare tutto li porrono lì penso di strada lì adesso riusciamo a possibilitarci adesso ricomincio a ritornare in strada chiaro a Royce e da qui l'altra curva che c'è non pensi che questa è la curva qua si arriva alle piscine è lì che fai la scicanella qua è la piscina perché adesso qua c'è la piscina questa curva qua entra a 260 fanno la tua scicanella qua bene poi fanno proprio di lì e poi fanno proprio di lì Qua praticamente fondamentalmente è l'intercchio della piazza. Allora in realtà corrono qua, qua arrivano dietro questa casa e qui è ritorosa. Poi girano la dietro, ma io adesso voglio pulevarmi da qua. Grazie per la visione!